Papà Roberto che cerca di proteggere mamma Lorena dallo strazo immenso dell'ultimo addio alla loro Carlotta. E' ancora i volti impietriti dal dolore dei fratelli Leonardo e Alberto. Sono forse le immagini che raccontano o meglio il funerale della diciottenne di Fontane di Villorba, vittima dell'incidente accaduto il 27 dicembre a poche centinaia di metri del piazzale della chiesa dove oggi tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia dei Rossi. In troppi volevano salutare per l'ultima volta questa ragazza solare perché la chiesa potesse contenere tutti. Vicini e conoscenti ma soprattutto tantissimi ragazzi delle attività parrocchiali ma anche dal Mazzotti, scuola che Carlotta stava frequentando per il quinto anno. Hanno condiviso il dolore composto di questa famiglia che ha saputo tendere la mano anche a Marco Dussin, il ventenne alla guida dell'auto dove la diciottenne ha trovato la morte. E Marco era lì, vicino a loro ma anche a Carlotta, con quel bouquet di fiori con il suo nome posato sopra la bara bianca. Non so se si può trovare un senso a quanto è accaduto, solo l'amore che scaturisce da dentro ciascuno di noi può avvolgere, farci sentire in compagnia e darci il coraggio di vivere. Stare insieme e sentirci uniti da una forza che non si vede ma che nessuno ha potere di sciogliere, neppure la morte. E condividere questo dolore tutta la comunità villorbese rappresentata dal sindaco Giuseppe Soligo, dal senatore Massimo Candura, oltre dall'ex sindaco Marco Serena, dallo storico vice sindaco Giacinto Bonanna. Tutti chiamati a stare vicini ai giovani nel tempo dei loro entusiasmi ma anche delle loro fragilità. Penso che un modo bello per ricordare Carlotta sia per noi adulti quello di stare vicino ai nostri ragazzi e giovani, avendo fiducia in loro, apprezzando ciò che a loro piace e condividendo la loro e nostra ricerca di dare un senso alla vita. Una cerimonia semplice terminata con le parole del paroco Don Marco Carletto che si è rivolto così direttamente alla giovane. È un affidarsi all'infinito amore del padre. È un momento comunque difficile. Carlotta è un momento solenne, sacro e umanamente faticosissimo. E nel dolore composto della famiglia nessuno ha più preso la parola, affidando al silenzio dell'ultimo viaggio verso il Camposanto il pensiero di ognuno per questo sorriso e questa giovane vita spezzata una notte d'inverno. Grazie. 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 Grazie.